L'intesa franco-tedesca spiana la strada alla Tobin Tax. Entro marzo i leader europei dovranno prendere una decisione chiara sulla tassa, sulle transazioni finanziarie. Anche i mercati potrebbero assumersi in parte il peso di questa crisi, con un'imposta che potrebbe essere pari allo 0,1% nello scambio di azioni e obbligazioni, secondo la proposta della Commissione. Al Parlamento europeo la deputata greca, Annipo Dimata, da due anni si batte a favore della Tobin Tax, ma ora critica un'eventuale iniziativa unilaterale della Francia, come paventato la Presidente francese, perché ha detto che il principale argomento a favore di questa tassa è di lavorare contro la frammentazione dei servizi finanziari nel mercato unico europeo. Londra è nettamente contraria alla Tobin Tax, anche se impone un'imposta simile, la Stamp Duty Reserve Tax, sull'acquisto delle azioni nella City. Si applica solo agli investitori britannici e non a quelli stranieri, spiega Ashley Fox, eurodeputato conservatore britannico. In Gran Bretagna abbiamo introdotto la nostra tassa sulle banche, ma non è giusto far portare al settore finanziario un fardello europeo, perché il 70% dell'industria finanziaria è a Londra. Per questo credo che il Presidente Sarkozy vuole imporre una tassa, potrei suggerirgli di imporre una tassa sul formaggio.